Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians Io sono Splash e oggi sono qui con i drop della settimana Questa settimana ho fatto un bel po' di cose Ben 3 cala la notte con i miei 3 personaggi Due ride a livello difficile compresa anche la challenge che ci è stata lanciata questa settimana da Oryx Di cui trovate anche il video nello scorso video proprio come guida per completare la sfida ad Oryx E poi due biglietti delle prove di Osiride Cominciamo quindi con il mio titano Vi mostro giusto per il drop del cala la notte con il mio titano Che è stata questa corazza di classe dell'orbita morta a 2.92 Purtroppo mi è andata abbastanza male Per quanto riguarda invece le prove di Osiride Niente di che giustamente ho solo trovato i guanti a 304 di luce Non male comunque Dopodiché partiamo con il ride Per quanto riguarda le armature Qui non ho trovato niente di che Avevo trovato mi sembra un busto demoniaco a 311 Che ho già spostato su un altro personaggio per infondere un'armatura Per quanto riguarda invece le armi Ne abbiamo trovate parecchie Allora qui non so perché Mi sembra che avessi anche un cecchino normale a 3.2 Ma io onestamente vi farei vedere più le cose Più forti rispetto a quelle che già avevo E quelle abbastanza importanti Che mi torneranno utili Per le attività di alto grado Dunque per quanto riguarda Appunto il mio titano Nel ride diciamo che prima niente di che Appunto a parte queste due cose Dalla cassa esotica però ho trovato Il piano C a 3.10 Fucile da fusione che conosciamo bene Che viene dall'anno 1 Vedremo un po' come sarà in questo anno 2 A Dorix invece ho trovato una montagna di roba Per prima cosa il castigo demoniaco a 3.16 Ovvero il fucile da ricognizione Della modalità hard Davvero un ottimo pezzo Dopodiché ho trovato il fucile impulsi a 3.10 E il fucile automatico a 3.10 Come speciale invece niente Mentre poi alla fine ho trovato anche il lanciarazzi demoniaco A 3.14 Con danni da vuoto Devo dire degli ottimi drop E poi ovviamente Visto anche la sfida Mi ha dato anche Sia l'artefatto a 3.10 Che a 3.20 Che comunque è davvero utilissimo Perché Tra l'altro con intelletto 72 Disciplina 88 Quindi Un pezzo che sicuramente Mi tornerà utile Devo dire che Per il calaranote Non è andata bene per il ride Per il ride Sono più che soddisfatto Passiamo quindi Al cacciatore A questo punto Eccoci qui con il mio cacciatore Partiamo anche con questo Con il calaranote Dove ho droppato anche qui Una minchiata Ovvero lo spettro Della vanguardia A livello 304 Purtroppo i cara Mi sono andati male Lo sergone Non ve lo farò vedere Comunque anche lì Ho trovato una corazza di classe Con 303 di luce Purtroppo Niente di che Anche lì Per il ride Invece qui mi è andata davvero Molto molto bene Allora Lasciando perdere le cose Un po' più superfluo Anche qui Vi faccio vedere Quelle cose davvero utili Che mi alzano di luce Per prima cosa Da Golgoroth Ho droppato Le braccia demoniache A 3.18 Davvero Un ottimo pezzo Mentre da Oryx Per armature Ho droppato Il casco Quello normale Nero vuoto A 3.10 Per fortuna Almeno l'ho droppato Al massimo Di quello che potevo Nella modalità Nella modalità normale Ma l'ho fatta ad hard Ovviamente Direttamente ad hard Dopodiché ho droppato Il Il busto demoniaco A 3.17 Poi vabbè Sì qui Le gambe Queste qui Le avevo già Dopodiché ovviamente La corazza di classe Una a 3.10 E una a 3.20 Per quanto riguarda Invece Le armi Andiamo un attimo a vedere Abbiamo anche qui Un castigo demoniaco Però a 3.20 Dopodiché ho droppato Un fucile automatico A 3.10 Come quello che abbiamo visto prima Quindi comunque sarà utile Per infondere altre armi E un fucile automatico A 3.20 Quello demoniaco Dopodiché Per il resto Per le armi Niente Però devo dire Che anche qui Mi è andata Veramente molto molto bene Alla fine Vabbè Ho droppato Delle gambe Mi sembra che fossero Queste qui A 3.4 Nelle prove di Osiride E poi le braccia Alla quinta vittoria Purtroppo solo A 300 Di luce Per quello Niente di che Però devo dire Questa settimana Ho fatto tante cose Sono molto soddisfatto E speriamo di trovare Altri pezzi Nelle prossime settimane Bene ragazzi Video veloce Già concluso Io con questo Vi ringrazio Spero che vi sia piaciuto Questo video In caso fosse così Lasciate un like Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per non perdere Gli altri video Che vi proporremo In avanti Potete anche seguirci Sulla pagina di Facebook Su Twitter Su Twitch E su Bungie.net Dove trovate Il nostro clan Dei Guardian Seat E anche su Instagram Bene Io vi saluto E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti guardiani